Ciao a tutti e benvenuti su Ticino Trek & Bike, il canale YouTube che vi accompagna a piedi in bicicletta alla scoperta della Valle del Ticino. Oggi siamo a Morimondo, sul cui cielo si stagliano eleganti le forme dell'abbazia cistercense. Il monastero di Morimondo fu fondato nel 1134 dai monaci cistercensi provenienti dal monastero di Morimonde in Francia. Inizialmente i monaci si stanziarono a circa un chilometro da qui a Coronate, ma due anni dopo si trasferirono nell'area su cui oggi vediamo sorgere l'abbazia. Una curiosità sul nome, Morimondo vuol dire morire al mondo, però nel significato di vivere da risorti, per cui è un messaggio di speranza. Il monastero di Morimondo acquisì subito importanza e cominciò ad attrarre numerose vocazioni che diedero impulso all'attività dello scriptorium, in cui si producevano libri, e alle attività agricole. I monaci acquisirono diversi terreni nei dintorni e nel corso del XII secolo le grange, gli oratori e i mulini costruiti dai cistercensi si espansero su tutto il territorio circostante. Quando parliamo di grangia intendiamo una comunità agricola amministrata dai monaci. Furono anni di espansione, ma furono anche anni difficili, perché Morimondo si trovava al confine tra i territori di Pavia e i territori di Milano. Oggi questo può sembrarci un dettaglio insignificante, ma dobbiamo sempre considerare le cose nella loro prospettiva storica. Vivere in queste zone nel XII secolo significava trovarsi al centro dei conflitti bellici tra Milano e Pavia per la supremazia del territorio. La conseguenza diretta di questa situazione fu che nel 1161 Morimondo venne saccheggiata dalle truppe di Federico Barbarossa, alleato dei pavesi, chiamato in Italia proprio per contrastare la supremazia di Milano. Un secondo e ancora più drammatico saccheggio fu subito da Morimondo nel 1237 ad opera delle truppe pavesi. In quell'occasione furono uccisi numerosi monaci e da questo sanguinoso evento il monastero non riuscì più a riprendersi, non riuscì più a riacquisire la sua passata operosità. L'abbazia visse una rinascita alla fine del 1400 quando Giovanni de' Medici ne divenne commendatario. Giovanni de' Medici era figlio di Lorenzo il Magnifico e divenne poi papa col nome di Leone X. In quegli anni fu ricostruito il chiostro, fu rifatto il portale della sacristia, fu realizzato il corolineo e fu commissionato l'affresco della Madonna col bambino. Vedremo queste opere quando visiteremo l'interno della chiesa. I lavori per l'edificazione della chiesa furono avviati parecchi anni dopo la fondazione del monastero nel 1182 e si conclusero più di cento anni dopo nel 1296. Vi ricordate? Nel 1237 Morimondo fu saccheggiato e questo ebbe delle ripercussioni sulla realizzazione dell'opera. L'abbazia è stata realizzata in mattoni d'argilla che venivano prodotti nella fornace dei monaci. L'argilla in questa zona ed in quei tempi era la materia prima più facile da reperire e da lavorare. L'architettura cistercense si distingue inoltre per la sua sobrietà per cui l'argilla ne rappresenta l'elemento ideale. Notiamo la facciata che si eleva al di sopra del livello del tetto e presenta due finestre aperte verso il cielo. Notiamo anche l'utilizzo dei bacini in ceramica che erano un elemento decorativo tipico dell'architettura medioevale. Chi segue Ticino Trek & Bike si ricorderà che abbiamo trovato dei bacini simili sulla facciata della basilica di San Pietro in Celdoro a Pavia. Erano bacini di produzione medio orientale e furono portati nelle nostre zone dai pellegrini che qui a Morimondo trovavano presso i monaci cibo e ospitalità. L'utilizzo dei bacini permetteva di movimentare le forme della facciata e di alternare all'opacità dell'argilla la lucidità della ceramica. All'interno osserviamo la tipica essenzialità cistercense fatta di mancanza di decorazioni e armonia dell'insieme. Nonostante la povertà dei materiali utilizzati viene ottenuto un effetto di grande eleganza. Le forme sono legate alla tradizione romanica con possenti colonne e archi a tutto sesto ma si vede anche l'influenza gotica nella presenza di archi a sesto ocuto volte a crociera e slancio verso l'alto. L'architettura cistercense sembra volerci parlare attraverso le sue forme. Osserviamo con attenzione. I capitelli delle colonne della navata centrale sono tutti diversi. Di diversa forma sono anche alcuni costoloni delle volte a crociera. Gli archi della navata sinistra sono gotici, quelli di destra romanici. Sono piccole imperfezioni volontarie che vogliono trasmetterci il messaggio che solo Dio è perfetto e che a lui si deve la molteplicità del creato. Osserviamo anche il pavimento che sale. Più ci avviciniamo all'altare più ci eleviamo verso Dio. In età rinascimentale l'intervento di Giovanni De Medici, come ho già ricordato, aggiunse alla chiesa alcune opere d'arte. La più importante è il corolineo che troviamo dietro l'altare. Gli stalli sono decorati con incisioni. Fu realizzato nel 1522 da Francesco Giramo di Abbiategrasso. Notiamo anche l'affresco del 1515 attribuito alla scuola di Bernardino Luini. Rappresenta la Madonna col bambino e San Giovannino tra San Bernardo e San Benedetto. Ritroviamo San Bernardo e San Benedetto, due figure molto importanti per i cistercensi, negli affreschi della Cappella del Battistero e in due tele nella navata destra risalenti alla prima metà del Seicento. Un affresco settecentesco illustra la visione della Scala Cieli avuta da San Bernardo. Osserviamo anche l'acqua santiera ottenuta da un lavabo originale del chiostro e il portale della sacrestia. Tutti gli ambienti del monastero trovano il loro punto di raccordo nel chiostro. Il termine chiostro deriva dal latino claustrum che significa chiuso. Il chiostro infatti non ha sbocchi diretti verso l'esterno ed è aperto solamente verso il cielo. Anche in questo caso l'architettura ci parla e ci dice che la nostra mente deve essere rivolta unicamente a Dio. L'accesso alla chiesa è libero ma l'accesso alle altre aree del monastero è possibile solo attraverso visite guidate per cui vi consiglio di consultare orari e modalità presso il sito internet dell'Abbazia di Morimondo. Direi che possiamo riprendere il nostro giro grazie per essere stati con noi. Vi invito a iscrivervi al nostro canale se vi piace seguirci alla scoperta della Valle del Ticino. Potete seguirci anche su Facebook. Un saluto a tutti da Claudio di Ticino Track & Bike